Signor Maikeman, un gente buona, mi di nada di vista di gelo e di cheia. Lo che che sta adrezzando, a ruba, a si copi cambio, bonita, cu ora bo sali, buopo guac, cosna bonita, cua guardo regla, cu notta watacina antes. Ja, mi da sperare lo vini mas, poco a poco, in poco dia ma lo vini mas di Lugana andre già bonita. Mi padre è il ministro Maikeman, mi piace, con il gemma, e pronto lo sperare Maikeman qui nella Cousin Curves. Si dice che la macchina, il padre ha avuto il tipo di macchina che è la macchina in America e in altri paesi, quindi non abbiamo il tipo di macchina qui, e non abbiamo tutte le macchina necessarie per essere assistito. Non abbiamo il tipo di macchina, e non abbiamo il tempo di rinforzare. E di più e più, abbiamo il tempo di rinforzare, e non abbiamo il tempo di rinforzare. Ma cosa sta passando, se c'era qualcosa che sta passando. Però dopo, non abbiamo il tempo di rinforzare, perché no abbiamo il ministro è visitato il bairro, e non abbiamo il tempo di rinforzare, e ora non abbiamo rinforzare, quindi abbiamo il tempo di rinforzare, un sorpreso grande per noi, un'usperato di ministro. La ministra apunta a noi over di scuola, quanto molto, che temporada nostra habre, che tutte le scuola, conversazione è molto buona. E anche la scuola, la scuola è molto buona, contenta che sei. La scuola è arrivata a Facebook, ma che è un'altra banda di cammino, la famiglia Rosenberg. La scuola è la scuola, non è qui, non è venuto, 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 non è venuto qui dentro. E la scuola è orgogliosa quando c'è una scuola così. E questa anche è simpatico, allegra, questa è le mani piace per la gente, è in carissima, è in carissima, non è venuto, non è venuto, non è venuto.